buonasera benvenuti siamo qua per la lezione magistrale di franco purini ho chiesto franco purini l'arcano cosa volesse dire tre errori moderni anzi avevo scritto tre errori della modernità ma come al solito franco mi ha corretto è diventato tre errori moderni ma siccome non sapevo di cosa si trattasse lui è stato molto reticente ho pensato finalmente oggi sarebbe accaduto quello che lui ha auspica facendo molta ironia da quattro anni da quando sono segretario generale cioè il fatto che io scriva sempre introduce e coordina oggi si realizzava l'arcano che non introducesse non coordinarsi perché non sapevo di che cosa avrebbe parlato poi in realtà in camera caritatis adesso due minuti fa prima di entrare mi ha detto che parlerà di questi tre errori sintetizzo senza togliere nulla sul tema della uno è quello della prefigurazione complessiva del progetto come promessa completa di architettura l'altro è quello della frammentazione della parcializzazione dello spazio e il terzo se non ricordo male è quello della l'ossessione per la tecnica ma trattandosi di una lezione magistrale è anche giusto che io non introduca e non coordini permettetemi soltanto di ricordarvi alcune cose questo degli errori in fondo è una delle costanti di franco purini lui ha sempre parlato dell'errore compositivo premeditato nei suoi progetti di infrazione tettonica di simmetria come incidente tettonico che perturba visivamente l'ordine costruttivo dell'edificio e quindi diciamo c'è un ricorso abbastanza continuativo sia nel sistema filiere dei suoi progetti pensate le diverse evoluzioni della tipologia della casa nella campagna romana che lui mi pare abbia frequentato dal 71 fino agli anni 90 ma pensate anche i progetti realizzati attraverso il riporto di terra o pescavo o tradizione dal progetto di croce per latina fino al progetto per fermo fino alle cave di montericco ecco quindi questo tema diciamo quasi da entomologo all'allinneo in un erbario di costruire queste filiazioni continue è una costante così appunto come costante questo ricorso all'idea dell'errore ma c'è un progetto particolare che è quello del 76 il progetto per il padiglione di vetro e cemento che in qualche modo incista tutti questi elementi che riguardano l'errore il sistema dei grandi frammenti architettonici in equilibrio instabile come archeologia del nuovo la tensione topologica la temporalità delle temporalità diverse la centralità la serialità e l'elenco e a proposito dell'elenco non è un caso che compaiono dal cemento all'intonaco alla pietra al legno ecco ma soprattutto in questa apparente perfezione del suo di spiegarsi nei suoi 120 metri di lato quei suoi centrodue 132 pilastri con il modulo del 12 per 12 si assiste a una relazione che con una relazione con l'idea dell'avanguardia avanguardia che dice lui non come possibilità di riportare di essere riportata in vita ma come nostalgia attiva e anche su questo forse ci darà chiarimenti cosa significhi la ricostituzione attraverso la nostalgia attiva c'è poi l'idea del progetto teorico come accumulatore di temi e di soluzioni che fa dell'astrazione il suo centro come il tempio di elio nelle molte frequentate da lui lezioni piranesiane proprio concentrandosi sulla dimensione teorica del campo marzio piranesiano l'astrazione come omaggio alla combinazione di ragione e passione tra neoclassicismo e romanticismo tra eclettismo e rigorismo e in questo anche qui con l'idea della filiera arriviamo dal padiglione di vetro e cimento del 71 del 76 scusate fino al tre progetti per le statvillen di possedam dove in una sorta di omaggio a ludwig persius franco purini affronta tutte queste problematicità ho fatto la mia introduzione grazie la parola al professor purini per la sua lezione magistrale grazie 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 grazie